e ciao a tutti uagliù e bentornati su fallout 4 e sulle memorie di razza allora, come vi ho detto negli episodi precedenti, ho ripulito un po' la città e poi ho costruito questo una struttura difensiva che mi permette di ospitare questo posto sta venendo subito, ho costruito un pavimento con la scala ok, qui, da qui possiamo, chiunque si avvicini, spero non si avvicini nessuno a fare dei ride da qui possiamo mirare ad alta distanza perché come vedete ah, ho montato il mirino vedi? alz, vedi? vedi? ho montato il mirino proprio con l'ottica sopra il fucile, questo qui ha a protoni, qua come cacchio si chiama, il fucile laser, uno schetto e niente, adesso ce ne andiamo allora, ma stai zi inventario, ho cambiato, ho messo bianco big gym, questa qui è l'arma, vedete? 20% di probabilità di meno male la gamba del bersaglio è l'arma speciale che abbiamo usato noi però adesso metteremo fucile, revolver artigianale porto calibrare, mettiamo la pistola per adesso basta avere gli strumenti giusti ok e apriamo i dati dobbiamo andare a green top nursery parla con i coloni di green top nursery mi ha detto che c'è stato il rapimento eccetera eccetera noi tramite il tasto mappa possiamo allora qui dobbiamo andare qui ok il posto più vicino è qua dove siamo andati quindi ci facciamo un pezzo di strada veloce un pezzo di strada a piedi purtroppo eccoci qua il nostro infallibile cane qui dovrebbero esserci due coloni se ci sono ancora se non ci sono eccoli qua che zaffano la terra ciao amico amico ci sto venendo bene certo allora affamma mamma c'era pure un mini rat un mini coso qua questa è una casa abbandonata mi sa che ci dormiva qualcuno qui che cosa c'è un frigo non ce ne frega assolutamente nulla allora dobbiamo andare da questa parte se vedete nel nell'indicatore della mappa cacchio ma perché ho preso sta via quando c'era il ponte che ha trovato oh 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 super mutanti non li ammazzerò mai super mutanti sì sì se no 18 sono ah vaffangala per adesso evitiamoli speriamo che il cane non li attacchi che poi devo andarmi a riprendere il cane e faccio una brutta fine ah no eccolo cacchio cacchio cool ferale oh e baffanbagno mosca oh mosca finché in mezzo alle piante poi non si vede nienti dove cacchio sei mannaggia cacchio le mosche dov'è lascia stare il cane ti ho detto oh mosca quando pare che stai esagerando ma che mosca era questa e che cacchio abbiamo incontrato i primi gul ferali sentite spari ma arrivano da qua però volo skyline skyline come cacchio non c'è scritto non ho capito chi è che spara e chi è che viene sparato oh salta su sto cacchio di aereo no no dogmate allora eh tutto tutto vabbè scendiamo dai non volevo scendere radiazioni 1 oh mister gazzi mister gazzi ma come attacchi me mister gazzi ma come te bene mannaggia a te mister gazzi eh eh il cane è in pericolo oh ma vedi non puoi mai andare che cacchio è e mh 54 fucile da caccia 54 porto calibrato vediamo questo 8 cartucce di anno non è meglio a salve minchia ma non gli faccio nulla praticamente zero non gli faccio assolutamente nulla allora sai che cosa vi dico prendiamo il care buon vecchio temprano questo moschetto laser voglio dove è dove sei conzoniamoci di steam pack ti va di crepare a te mister gazzi onorevole gazzi come gazzi dice il triomero oh onorevole gazzi e che cacchio ecco che cosa so fare crepa lì c'è uno e non mi sembra un nemico non tentare la fuga la giusta oh no è proprio un nemico voglio in modo rapido ed è eh ti ho distrutto un braccio bello c'è l'effusione schede puntamento avanzato sai che ci serviranno per spostati di rock me oh ma vai 5% ai meerlook che sono una sorta di e prendi per forza sono una sorta di granchio automatica oh volevo dirlo io adesso come precisione sto fucini fa cacare praticamente è morto però scusa ma chi si sta dando con chi ah mirelook cacciatore eccoli qua i mirelook ok non vedo dove sei è tosto sto mirlook cacciatore vedi un po' tu vediamo questo l'auto ti vedo caccio però prendiamo questo ah va zero non gli ho fatto nulla hanno la corazza e carrega carrega pallettuni carrega falle spaccalo faccio saltare i denti mirlo faccio saltare a me sembra aiuta moschetto laser vai ai di moschetto saluto e bassi proprio a ira si no in da l'acqua mega ma ci sono attiri però morto voglio morto questa rifaccia che ne vengono più danni ma anche un peso maggiore alimentare rallentano allora io direi di prendere questo che ho 99 col e invece di farmi il giro di la andarmene di qua voglio di lacera il mirlook super assassino mutato di qua spero non c'è niente no non è che non c'è niente ok qua ci sono i robot galleria general atomic quello sicuro non c'è niente andiamo andiamo e benvenuto alla galleria grazie devi essere il nuovo supervisore ah sì esatto splendido lascia che ti dia il benvenuto al tuo nuovo incambio bravo quanto avrei avuto modo di sistemarti vai dal direttore il suo ufficio è situato nella statua al centro della piazza va bene la galleria è attualmente chiusa al pubblico ma lo staff e i dipendenti possono accedervi naturalmente se hai qualche domanda sarò lieto di rispondere perché la galleria è chiusa sono spiacente ma per via di una causa ancora in corso non posso commentare ti invito a rivolgere le tue domande alla divisione affari legali della general atomic va bene chi è il direttore le azioni dei robot della galleria sono coordinate dal software brevetato director management system dms della general atomics che chiamiamo direttore il direttore permette alla galleria di funzionare autonomamente senza alcun intervento umano va bene cos'è questo posto la galleria general atomics è il centro commerciale del futuro la nostra vasta gamma di negozi è gestita interamente dall'avanzata linea di robot della general atomics la dimostrazione dell'affidabilità e versatilità dei lavoratori robotici entra e scopri la differenza con la general atomics è tutto molto bene goditi la visita va bene fate attenzione a ladri intrusi e comunisti ehi gazzi guardiano voglio qui mi sa che prego prendi un numero per agevolare i servizi 13 numero 13 mi sa che torniamo poi adesso continuiamo la nostra ah ecco possiamo non passare nell'acqua e siamo arrivati non non chi è questo non è una non è un nemico colono ehi ti conviene non avvicinarti troppo non preoccuparti non voglio farti del male ah non mi preoccupo per quello il fatto è che beh credo di aver mangiato della carne andata male ok forse era un sacco di carne all'inizio mi sembrava buona ma mi ha messo sotto sopra l'intestino e beh credo che tu riesca a sentirlo anche da lontano al diavolo la carne in scatola di lukovski dovrebbero chiamarla veleno in scatola di long neck lukovski ah tieni prendi tu il resto io non toccherò mai più quella robaccia per il resto della mia vita va bene al fatto di sopravvivere a questa cosa e se per caso trovi questo lukovski digli che spero che muoia male va bene io scusami forse faresti meglio ad andare se è come l'ultima volta sarà un disastro si sta cagando addosso praticamente ma mica la fa veramente qua allora meno male abbiamo conosciuto anche un gul buono na 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 stiamo raggiungendo il nostro obiettivo valacche libellule non sono amichevoli quelle dogme non sono amichevoli questo ramo mi ha rotto eh dogme quelle non sono amichevoli dogme devi venire di qua eh e io solo sto fucilietto tengo dogme e stiamo andando a fare una mega missione che non ce la dimenticheremo mai oh green top nursery parte che qua non c'è un milione e mezzo di frutti mutati che noi ci prenderemo proprio senza guardare nessuna nessuno che ci dica niente oh dobbiamo parlare con quella ciao bella aiutami ti prego ciao mio marito è stato rapito ah sapevo io raccontami cosa è successo ecco hanno detto che torneranno tra qualche giorno per il riscatto e che se non pago lo uccideranno ma io non ho tutti quei soldi e li uccidiamo noi non temere lo riporterò indietro abbiamo chiesto aiuto ai minutemen ma non credevo che sarebbe arrivato davvero qualcuno riportalo qui sano e salvo ok voglio dobbiamo andare vediamo dove si ma posti più vicini mannaggia laboratorio chimico mhm officina non ce l'hai una delle armi scusami che magari mi potenzi un po' d'arma dove mi disposto mi sa che non ce l'ha questa vabbè aspetta 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 primo cotto scusatemi status vediamo vediamo ok crea crea costine di cane crea 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 scarafaggio radioattivo grigliato crea basta ok basta perfetto voglio uscire la postazione ok perfetto armiamoci sempre che non si sa mai dobbiamo andare di qua io spero tanto di non incontrare nessuno tipo bull super mutanti mosche assassine mirlook super mega mutanti che ti ammazzano sempre praticamente spero di incontrare i predoni umani così li ammazzo e sono morti e basta e che caspita mica possono vincere sempre loro segnale trovato richiesta di soccorso cacchio cacchio potenza richiesta di soccorso 14% non comment non 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 ma va fangala o ma dove mi sono in casta in delle rocce ma te pari ti è saltato ciao pino ciao pino ciao bello ciao bello tappo accendino placca d'oro tappo munizioni alieno giocattolo tu tieni tu allora tappo pennello tu tieni tu ma cazzo ho tutto sommato ho preso tazza da caffè tutto sommato bello ti riprendi dai 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 qui è pieno di di ghoul 49% lì c'è uno scorpione radiattivo uno degli animali insieme ai deathclaw voglio la squadra perduta è completamente fuso anche questo cos'è successo qui fucile uniforme vediamo vediamo fucile ho visto che c'era un più vicino fucile c'era scritto fucile a doppia canna ragazzo è fucile a doppia canna laser fucile eccolo qua 31 chiamocelo va no però io sai che cosa ti direi che mi tengo il bolt action preso qua di prima vado a vedere vestiario uniforme cd a uniforme cd a ne ci voglio provviste perché perché quanto peso scuotano il 251 ma va cacare varie materiale accendino 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 lo tengo cranio lo lascio allora adesso si corre postati 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 robu è bloccata lo scopo qui l'ho il cd l'ho lo 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 uno scappa e commercio vediamo allora facciamo così che al cane diamo tutti i materiali e diamoci una salvata voglio abbiamo trovato un olonastro quindi io direi di questo c'è la dolcezza che ancora non avevamo sentito vabbè carc то c'è più guardarmi vado wadang e il giro alto No Può esparire pure sul... Può esparire Ci saranno accambiamenti, grandi e piccoli, e tu tornerai a... Dogmeat, attaccalo Morto Cacchio, mi sembri più difficile Facciamo le skin pack, sto giro Fredone feccia Lasciami andare Cosa c'è? 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 andiamo a vedere questo qua che cosa mi dici salve salve perfetto sto bevendo vedete che l'energia sale e l'adiezione no quindi vuol dire che è pura perfetto eh ma non mi dai niente ne bello voglio vabbè voglio guarda diciamo che salutiamoci qua perché sta diventando troppo lungo come vi ho detto fallout inizi a fare una cosa poi ne fai completamente un'altra quindi magari la prossima puntata che cacchio è saltato vabbè la prossima puntata magari ripartiamo da qua ciao voglio al prossimo video ciao